La firma di questo protocollo prosegue un percorso iniziato ormai 20 anni fa che ha portato a consolidare investimenti di rilevanza internazionale, numerosi posti di lavoro, un case history che viene portato a spasso per l'Europa e soprattutto una città che ogni anno viene visitata da circa 100.000 persone e che rappresentano forse una volta e mezza la sua popolazione. Questo è il risultato che oggi consultiviamo dopo 20 anni di lavoro e adesso bisogna continuare a migliorare quello che oggi abbiamo creato e il protocollo di oggi getta le fondamenta per proseguire su questo percorso e se saremo bravi non solo a mantenere quello che abbiamo ma anche a svilupparlo ulteriormente. Tra i anni di accordo che prevedono esattamente che cosa? C'è tutta una serie di partnership che poi li saremo dedicate fondamentalmente alla collaborazione, alla comunicazione, alla formazione, allo studio di quelle che sono le problematiche e le sensibilità che oggi il territorio propone e individuare delle soluzioni per migliorare lo stato di salute e anche ambientale che oggi rileviamo che comunque non occorre segnalarlo è sicuramente a buoni livelli.